Siete pronti? Eccoci qua, eccoci qua sulla rassegna stampa, finalmente una bella crisi di governo. Qualcuno di voi potrebbe dire, anch'io lo dico, voglio dire la verità, questo è un governo che lo trovo terribile, terribile Conte, terribile il clima di paura che ci hanno messo, terribile Casalino, terribile Der Commissar, l'arrogante Arcuri, tutto terribile, però toc toc lo faccio a voi che siete a casa ora e che volevate la zuppa di ieri sera, e mi scuso, ieri ero distrutto davvero. Ragazzi, voi pensate che adesso abbiamo risolto i problemi del Paese? Voi pensate che adesso finalmente saremo liberi dalla dittatura della paura, dalla dittatura sanitaria, dai comitati tecnici scientifici? Voi veramente pensate che adesso i ristoratori potranno avere un maggiore libertà? Veramente pensate che tutto questo potrà cambiare? Peraltro anche non per colpa del governo, anche per colpa di questa pandemia che ha un risvolto mondiale. Certo, voi pensate, qualcuno di voi pensa che si possa andare a votare? Ve lo escludo, e non ve lo escludo per come dicono i giornali oggi di destra e sinistra, qualcuno non riesce a dire che anche il centrodestra non vuole andare a votare, perché avendo ridotto i parlamentari sono tutti fottuti, pranne forse la Meloni. Tutti gli altri perderanno seggio in Parlamento probabilmente. Detto questo facciamo subito, non volevo mettermi di qua cattivo umore, nell'unico giorno in cui c'è qualche elemento di buon umore, è Crisi ora Conte in bilico, è il titolo del Corriere della Sera, lo strappo di Renzi, Repubblica. Il titolo migliore di oggi, che è quello che io vi segnalo subito, è che dà il senso di quello che è avvenuto ieri, ma soprattutto che potrà avvenire nei prossimi giorni, lo Claudia Fusani, che anche ieri ha fatto una delle poche domande intelligenti durante la conferenza stampa. Anche se ieri la conferenza stampa di Renzi ha visto i giornalisti, diversamente da quelle di Conte, meno sdraiati, meno lacchè, con domande precise, meno opinioni. Quelle sono conferenze stampa, obiettivamente. Renzi si è sottoposto a una conferenza stampa come si deve. Renzi liquida Conte, titolo riformista. Conte liquida Renzi. Ma forse ora tornano insieme. Perché questo è il punto, che cosa succederà da domani, e ovviamente sono al lavoro tutti i diplomatici per cercare di capire le tre possibilità. Elezioni anticipati, impossibile, mano sul fuoco. Crisi di governo e Conte, va un Conte-Ter rimettendo dentro anche i Renziani. E terza ipotesi, un Conte-Ter che è fatto senza i Renziani. Questo più o meno c'è scritto sui giornali. Renzi, infatti, ieri ha ritirato, come sapete, le ministre e ha detto che la crisi in realtà era aperta da mesi, che è una questione fondamentale, perché tutti quanti dicono che è irresponsabile Renzi. E io su questo non sono ovviamente d'accordo. È irresponsabile un corno. La crisi c'era prima, con un recovery che non avevano fatto in ritardo, con Arcuri che era in ritardo su tutto, con i decreti che arrivavano il giorno prima. Adesso è colpa di Renzi. Nessuna pregiudiziale, dice anche Renzi. Questo fa pensare che Renzi non abbia una pregiudiziale né nei confronti di Conte né di questa maggioranza. L'unica pregiudiziale che ha detto ieri in conferenza stampa che oggi tutti i giornali citano è nei confronti della destra e di Salvini. Errore gravissimo, dice Zingaretti, ma Ersaponetta, voglio dire, ha la coerenza simile a quella di tutti i politici, pari a poco. Il Corriere della Sera l'ha presa male, quasi peggio del fatto quotidiano. Massimo Franco, uno dei notisti, secondo me, più abili, più intelligenti che ci sono e che hanno le sue idee, che puoi più o meno condividere, ma devo dire che è sempre molto informato, dice che è stata un'azione di irresponsabilità, la definisce Franco, e questa è la linea del giornale, è stato accolto con stupore rabbioso. I renziani sono un piccolo partito di guastatori e che in realtà non ha neanche chiarito i passi successivi. Quest'ultima cosa è più fattuale, ma sul resto partito di guastatori, azione di responsabilità, stupore rabbioso. Insomma, il Corriere della Sera ci va durissimo e la stessa cosa, devo dire, non l'ha presa bene Marco Travaglio, che, come sapete, è lo sponsor di Bonafede e Conte. I topi di Fogna! Beh, ovviamente non possiamo paragonare un giornalista Franco a un politico, a un portavoce del governo come Travaglio, però, insomma, scusatemi l'accostamento, però Travaglio dice topi di Fogna da Maratona TV tornano o diventano renziani, sparano su eventuali responsabili. Eh, perché la via d'uscita è che adesso i voti di Renzi vengano presidi responsabili, gli stessi che ha sempre sfottuto proprio il fatto quotidiano. Oggi c'è un'intervista di Mastella, che è una roba che vi riporta indietro di vent'anni, ci spiega perché lui è responsabile, perché lui è attaccato a Benevento, dai grillini, dal PD, ma responsabilmente invece questa crisi lo rimette a centrale e con i suoi due o tre voti al Senato riuscirà a fare anche un nuovo partito che si chiamerà Meglio Così. Non mi ricordo come cavolo si chiama il partito che vuol fare. Insomma, Mastella. Io voglio sapere qual è l'idea di futuro strategico, di visione che ha Mastella, con tutto rispetto nei confronti di una persona che mi sta anche simpatica, ma io lo considero veramente un mondo che mi sarei voluto togliere anni fa. Però ovviamente, togliere non giudiziariamente, politicamente ovviamente, però adesso Mastella diventa buono, il governo Mastella diventa buono anche per, come si chiama, per Travaglio, Folli, come è Conte è inadeguato, Repubblica ha una posizione completamente diversa da quella della sera, cioè molto meglio ormai Repubblica. Cioè il giornale di Saviano, il Corriere della Borghesia del Pigneto, cioè il Radica Scic del Pigneto, cioè il Corriere della Sera, ormai scavalca a sinistra Repubblica, in cui ti trovi folli, in cui riesci a dire che Conte, tutto sommato, è piuttosto inadeguato, e soprattutto perché in una fase come questa, probabilmente ci si sarebbe atteso qualcosa di meglio, sostiene la Repubblica. Belpietro dice che non ama Renzi per niente, perché Belpietro li sa sulle balle come poche persone nel mondo, nessun veto su Conte ha posto Renzi, ha detto no a elezioni, ma l'unico veto che ha posto Renzi è un esecutivo di destra, quindi il bullo, dice Belpietro, tiene aperte tutte le porte. Insomma, non è uno di quei giornali che gode. Nel frattempo ora bisognerà vedere la Conte in Parlamento, questo secondo alcuni giornali è quello che vuole fare Conte, ma il Quirinale non vuole fare questa roba qua, perché il Conte vuole cercare i responsabili, mentre invece, tipo i Mastella, mentre il Quirinale vorrebbe che più o meno si riaccattasse la stessa maggioranza, secondo le indiscrezioni di questo tempo. Maurizio Breda, che è il portavoce del Quirinale, sostanzialmente dice che, e anche il domani, dicono che il Presidente della Repubblica consiglierebbe al Premier di trovare la stessa maggioranza. che altro vediamo? Beh, Sallusti è il pezzo, diciamo, più psicologico, e Sallusti sul giornale dice che è finito Conte, dice che Sallusti è uno scontro tra caratteri, non tra persone, e Renzi non ha mai voluto fare nel suo carattere il gregario, come ha fatto negli ultimi tempi con Conte, e per di più di capitani modesti, dice Sallusti, e quindi quello che stiamo vedendo è uno scontro tra megalomani! Eccola là! Questo è lo scontro che c'è. Allora, tutto questo trick e track, poi ovviamente non vi sto a raccontare tutti i giornali che vi raccontano in questo momento, la crisi, eccetera, ma non c'è un giornale, un giornale, che dica che il vero problema, sapete qual è? Qual è l'opposizione alla dittatura del virus, sanitaria del virus? Qual è il giornale contro i comitati tecnico-scientifico fatto da questi qua? Qual è il giornale che si è preso la briga di guardare il fatto che da domani, dal 15, dal 16, non si riesce a capire addirittura da questa domenica, cioè un giorno prima, avremo le regole più rigide sugli spostamenti, e di fatto l'Italia tornerà in zona rossa, anche se la finzione è che sia arancione. Non vi potrete spostare da regione, all'interno della regione non potete spostarvi più di due, la scuola non riprende, nonostante, segnala qualcuno, il TAR della Lombardia ha obbligato la Lombardia a fare la scuola in presenza. Cioè, in realtà, le nostre vite saranno sospese fino al 3 marzo o al 5 marzo, vi rendete conto? Cioè, qui noi siamo ancora bloccati tutti fino al 5 marzo, e stiamo qua a fare il trick e track su una crisi di cui non ce ne fotta assolutamente nulla. Perché il vero problema è che noi, se chiusi fino a marzo, siamo morti! Un paese chiuso in un anno è morto! Gestito da Casalino, Conte, dalle conferenze stampa di Renzi e dei giudizi, dei giornali, che il loro stipendio se lo portano, vivono in un altro mondo. E devo dire la verità, oggi, quando vedo sul Corriere della Sera che fa una pagina intera, oggi, ma perché? Sui morti del Covid, quelle figure morte dal Covid, no? Io sono dispiaciutissimo che siano persone morte per il Covid, ovviamente, 80.000 persone, non sono pinzillacchere, ma detto questo, oggi fai una pagina sui morti del Covid e il Corriere non riesce a fare una pagina sui morti invece del Covid per economia, di produttività, di licenziati, di gente che va alla Caritas, di gente che non c'è un lavoro, una prospettiva, che sta perdendo soldi, non c'è una riga sulla protesta io apro il quindici zero uno, una pagina, non c'è niente, neanche una riga, il Corriere su io apro quindici zero uno, tanto i suoi, voglio dire, i baretti del Pigneto aprono comunque a Roma perché grazie a Zingaretti forse riescono ad aprire, devo pensare, il resto del mondo sta soffrendo, ce lo racconta Financo Repubblica, ce lo racconta io apro quindici zero uno, dove dobbiamo tutti quanti parlarne il più possibile, anche Carlo Lottieri, sulla prima pagina del giornale, e fa bene, la definisce la rivoluzione di Velluto, ormai lo sapete di che si tratta, i ristoratori tra l'altro sono anche difesi da un avvocato, da una serie di avvocati che li difende dalle multe inevitabili che loro si beccheranno, io mi auguro e chiedo alle forze dell'ordine, chiedo alle forze dell'ordine di, lo dico senza che la morgese ci senta, di chiudere un occhio, far finta di nulla, e già lo stanno facendo, perché le forze dell'ordine si stanno facendo e non lo si può dire, non lo possono sapere i loro capi burocrati, ma loro sanno bene che qua i delinquenti non sono i ristoratori, che aprono distanziati, ma sono quelli che gli impongono ogni giorno di cambiare una regola, di cambiare un obbligo, di cambiare un divieto, quindi applauso alle forze dell'ordine che ci faranno la multa, il 15.01, spero il più distratta possibile, spero. Nel frattempo, voglio dire, questa roba delle restrizioni è una cosa che mi fa impazzire, non c'è mai un dato, un numero, un criterio, niente, c'è Speranza e Franceschini, quindi pensate sempre che alla fine di questa crisi noi ci troveremo, Speranza e Franceschini che probabilmente con l'azzolina e con questi qua a chiudere l'Italia ben contenti. Nel frattempo, il lavoro è un disastro, ce lo dicono Boeri e Perotti, totalmente inutile quello che hanno fatto con quei ministri che ci troviamo da scappati di casa, ci mancherebbe altro e vanno avanti anche le grandi e coraggiosi battaglie e riforme del secolo. Genitore 1 e genitore 2 al posto di padre e madre ce lo ricorda l'avvenire su spinta della UE, la grandissima Europa che ci vuole bene, che fa soltanto queste stronzate, no? Da un punto di vista ideologico e ovviamente questa roba è piaciuta molto al nostro garante. Nel frattempo, sui vaccini, c'è una storia bellissima che è il Corriere dell'Adige nella sua tragicità. E cioè, dice il Corriere dell'Adige, vaccini nel bidone per lo scetticismo del personale sanitario che rifiutano l'iniezione e quindi di fatto vanno perduti i vaccini mentre c'è una sete di vaccini in tutta Italia. Io a questi organizzatori dell'Alto Adige, non della Calabria, non della Sicilia, non della Puglia, non della Campania, dell'Alto Adige che consideriamo i fenomeni, li prenderei a calci nel culo. In un paese in cui c'è fame di vaccini, questi riescono a gettare nel bidone i vaccini perché gli operatori sanitari non li rifanno e non si è organizzati per utilizzarli in modo migliore, questi dovrebbero essere presi a calci nel culo anche se parlano in tedesco e non parlano il calabrese o il pugliese. Chiaro? Calci nel culo perché i vaccini li stiamo pagando tutti noi e c'è la fila agli ottantenni che vorrebbe i vaccini e questi si permettono di fare i fenomeni. Guarda, è una cosa incredibile. Io dico, non li prendete, è perfetto, non li prendete, datevi a chi li vuole, no? Qua ci sarà qualche strozzo di Novax che mi romperà le balle anche su questo, nel frattempo siamo talmente fenomeni che Pfizer ha deciso, mi sembra, su Repubblica che ormai, sapete, nelle fialette erano per cinque dosi però l'AIFA ha detto ne puoi prendere anche una sesta se hai le, come si chiama, le siringhe di precisione. Sai che avete fatto Pfizer? Sapete che c'è di nuovo? Siccome ogni fiala ne ha sei e non cinque perché voi stessi dite che se ne possono fare sei, vi do meno fiale perché così rispetto gli invii che vi ho fatto ma con il 20% di succhiamento in più che potete fare con le siringhe di precisione. e quindi quella che era un regalino è diventato un rischio dice giustamente Repubblica perché se non prendiamo la sesta dose rischiamo di fotterci il 20% di dosi che Pfizer ormai ci mette in conto. Tutto questo poi è affidato da Arcuri e oggi su Arcuri devo dire un monumento come sempre a Amadori sulla verità che tira fuori le più di mille conversazioni sms fatte tra chi? Tra Der Commissar e Benotti avete capito il ragazzo il giornalista che si è preso mi sembra 12 milioni di commissioni per le mascherine ci sono tutte le intercettazioni telefoniche che indicano che evidentemente erano indagati nonostante io abbia sempre detto che non sono indagati e continuerò a farlo per cercare di non perdere tutti i soldi con i pochi soldi che ho viste le querele di Arcuri Arcuri però in una di queste citazioni a Quarta Repubblica ha detto che non conosceva Benotti allora se io non conosco Tizio non gli amando o non ricevo 1500 tra telefonate sms o no tra l'altro lo stesso Benotti ha detto che conosceva Arcuri e che si conosceva questa fitta diciamo conversazione tra Benotti e il commissario che poi fa un appalto da un miliardo e due di cui 12 milioni di commissione prende Benotti che conosceva il commissario beh insomma queste conversazioni avvenivano anche prima che il commissario diventasse commissario quindi evidentemente non si conoscevano erano tutti errori telefonici lo dico a beneficio di chi mi voglia querelare io non sospetto nulla dico soltanto che oggi su il mitico Amadori mette nero su bianco il fatto che i due si sentissero così spesso chissà di che cosa parlavano forse della Roma e della Lazio dell'Inter e del del Milan io direi che per oggi è tutto beh insomma Renzi ha mollato la crisi c'è c'è da divertirsi io non mi dispero non penso che sia da irresponsabile questa crisi io penso che sia da irresponsabile un paese che affida tutto da alcui e sia da irresponsabile un paese che affida a Conte Casalino la gestione di un'emergenza come questa quello che ha fatto Renzi ha veramente poco di irresponsabile dal mio punto personalissimo di vista bene noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it per tutte le informazioni sull'evoluzione della crisi e ovviamente domani con l'altra zuppa di porro ciao